Senza dubbio il signor Charles Trokey ha ragione. Sono anzi disposto ad ammettere che il signor Charles Trokey non può aver torto mai, perché la ragione e lui sono una cosa sola. Ogni mossa, ogni sguardo, ogni parola del signor Charles Trokey sono così rigidi e precisi, così ponderati e sicuri, che chiunque, senz'altro, deve riconoscere che non è possibile che il signor Charles Trokey, in qualsivoglia caso, per ogni questione gli sia posta o incidente che gli occorra, stia dalla parte del torto. Lui ed io, per portare un esempio, siamo nati lo stesso anno, lo stesso mese e quasi lo stesso soggiorno. Lui in Inghilterra, io in Sicilia. Oggi, 15 di giugno, egli compie 48 anni. 48 ne compirò io, il giorno 28. Bene, quant'anni avremo? Lui il 15 ed io il 28 di giugno dell'anno venturo? Il signor Trokey non si perde, non esita un minuto. Con sicura fermezza sostiene che il 15 e il 28 di giugno dell'anno venturo, lui ed io avremo un anno di più, vale a dire 49. È possibile dar torto al signor Charles Trokey? Il tempo non passa ugualmente per tutti. Io potrei avere da un sol giorno, da un'ora sola, più danno che non lui da dieci anni passati nella rigorosa disciplina del suo benessere. Potrei vivere, per il deplorevole disordine del mio spirito, durante quest'anno, più di un'intera vita. Il mio corpo, più debole e assai meno curato del suo, si è poi in questi 48 anni logorato quanto certamente non si logorerà in 70 quello del signor Trokey. Tanto è vero che egli, pur con capelli tutti bianchi d'argento, non ha ancora nel volto di gambero cotto la minima ruga e può ancora tirare di scherma ogni mattina con giovanile agilità. Ebbene, che importa? Tutte queste considerazioni ideali e di fatto sono per il signor Charles Trokey oziose e lontanissime dalla ragione. La ragione dice al signor Charles Trokey che io e lui, a conti fatti, il 15 e il 28 di giugno dell'anno venturo avremo un anno di più, vale a dire 49. Premesso questo, udite che cosa è accaduto di recente al signor Charles Trokey e provatevi, se vi riesce, a dargli torto. Lo scorso aprile, seguendo il solito itinerario tracciato dal Bedecker per un viaggio in Italia, Miss Hattle Holloway, giovanissima e vivacissima figlia di Sir Holloway, ricchissimo e autorevolissimo pari d'Inghilterra, capitò in Sicilia, a Girgenti, per visitarvi in maravigliosi avanzi dell'antica città dorica. Allettata dall'incantevole piaggia, tutta in quel mese fiorita del bianco fiore dei mandorli, al candido soffio del mare africano, pensò di fermarsi più di un giorno nel grand hotel dei tempi che sorge fuori dell'erta e misera cittaduzza ad oggi, nell'aperta campagna, in luogo amenissimo. Da ventidue anni il signor Charles Trokey è viceconsole d'Inghilterra a Girgenti e da ventidue anni, ogni giorno sul tramonto, si reca a piedi, con suo passo elastico e misurato, dalla città alta sul colle alle rovine dei templi a Cragantini, aerei e maestosi sull'aspro Cilione che arresta il declivo della collina accanto, alla collina Crea, su cui sorse un tempo, fastosa di marmi, l'antica città, da Pindaro esaltata come bellissima tra le città mortali. Dicevano gli antichi che gli acragantini mangiavano ogni giorno come se dovessero morire il giorno dopo e costruivano le loro case come se non dovessero morire mai. Poco ora mangiano, perché grande la miseria nella città e nelle campagne e delle case della città antica, dopo tante guerre e sette incendi e altrettanti saccheggi, non resta più traccia. Sorge al posto di esse un bosco di mandorli ed olivi saraceni, detto perciò il bosco della Civita, e i chiomati olivi cinerulei s'avanzano in teoria fin sotto alle colonne dei templi maestosi e par che preghino pace per quei clivi abbandonati. Sotto il ciglione scorre quando può il fiume Acragas, che Pindaro glorificò come ricco di greggi. Qualche greggiola di capre attraversa tuttavia il letto sassoso del fiume, s'inerpica sul ciglione roccioso e viene a stendersi a rugumare il magro pascolo all'ombra solenne dell'antico tempio della Concordia, integro ancora. Il capraio, bestiale e sonnolento come un arabo, si straia anche lui sui gradini del pronao dirupati e trae qualche suono lamentoso dal suo zufolo di canna. Al signor Charles Stroklei questa intrusione delle capre nel tempio sembra sempre un'orribile profanazione e innumerevoli volte ne ha fatto formale denunzia ai custodi dei monumenti, senza ottenere mai altra risposta che un sorriso di filosofica indulgenza e un'alzata di spalle. Con veri fremiti di indignazione il signor Charles Stroklei di questi sorrisi e di queste alzate di spalle si è lagnato con me, che qualche volta lo accompagna in quella sua quotidiana passeggiata. Avviene spesso che, o nel tempio della Concordia o in quello più sudi era la Cinia, o nell'altro detto volgarmente dei giganti, il signor Stroklei si imbatta in comitive di suoi compatriotti venuti a visitare le rovine. A tutti egli fa notare con quell'indignazione che il tempo e l'abitudine non hanno ancora per nulla placato o affievolito, la profanazione di quelle capre, straiate e rugumanti all'ombra delle colonne. Ma non tutti gli inglesi visitatori, per dir la verità, condividono l'indignazione del signor Stroklei. A molti, anzi, sembrano un privo di una certa poesia il riposo di quelle capre nei tempi, rimasti come sono ormai solitari in mezzo al grande e smemorato abbandono della campagna. Più di uno, con molto scandalo del signor Stroklei, in questa visita, si mostra anzi lietissimo ed ammirato. Più di tutti lieta e ammirata, se ne mostrò lo scorso aprile la giovanissima e vivacissima Mrs. Ethel Holloway. Anzi, mentre l'indignato viceconsole stava a darle alcune preziose notizie archeologiche, di cui né il Bidecker né altra guida hanno ancora fatto tesoro, Mrs. Ethel Holloway commise l'indelicatezza di voltargli le spalle improvvisamente, per correre dietro a un grazioso capretto nero, nato da pochi giorni, che tra le capre sdraiate springava qua e là, come se per aria torno gli danzassero tanti moscerini di luce. E poi, di quei suoi salti arditi e scomposti, pareva restasse lui stesso sbigottito, che ancora ogni lieve rumore, ogni alito d'aria, ogni piccola ombra, nello spettacolo per lui tuttora incerto della vita, lo facevano rabbrividire e fremer tutto di timidità. Quel giorno io ero col signor Stroklei, e se molto mi compiacqui della gioia di quella piccola Miss, così di subito innamorata del capretto nero, da volerlo ad ogni costo comprar, molto anche mi dolsi, di quanto toccò a soffrire al povero signor Charles Stroklei. Comperare il capretto? Sì, sì, comprare subito, subito! E fremeva tutta anche lei, la piccola Miss, con quella cara bestiolina nera, forse non supponendone pur lontanamente che non avrebbe potuto fare un dispetto maggiore al signor Stroklei, che quelle bestie odia da tanto tempo ferocemente. In vano il signor Stroklei si provò a consigliarla, a farla considerare tutti gli impicci che le sarebbero venuti da quella compera. Dovette cedere alla fine, e per rispetto al padre di lei, accostarsi al selvaggio capraio per trattare l'acquisto del capretto nero. Missy Settle Holloway, sborsato il denaro della compera, disse al signor Stroklei che avrebbe affidato il suo capretto al direttore dell'hotel dei Templi, e che poi, appena ritornata a Londra, avrebbe telegrafato perché la cara bestiolina, pagate tutte le spese, ne fosse al più presto recapitata. E se ne tornò in carrozza all'albergo, col capretto belante e guizzante tra le braccia. Vidi, incontro al sole che tramontava fra un mirabile frastaglio di nuvole fantastiche, tutte accese sul mare che ne splendeva sotto come uno smisurato specchio d'oro, vidi nella carrozza nera quella bionda giovenetta, gracile e fervida, allontanarsi infusa nel lembo di luce sfolgorante. E quasi mi pare un sogno. Poi compresi che avendo potuto, purtanto lontana dalla sua patria, dagli aspetti e dagli affetti consueti della sua vita, concepir subito un desiderio così vivo, un così vivo affetto per un piccolo capretto nero, ella non doveva avere neppure un briciolo di quella solida ragione, che con tanta gravità governa gli atti, i pensieri, i passi e le parole del signor Charles Strokely. E che cosa aveva allora al posto della ragione la piccola Missy Settle Holloway? Nient'altro che la stupidaggine sostiene il signor Charles Strokely con un furore a stento contenuto, che quasi quasi fa pena in un uomo come lui, sempre così compassato. La ragione del furore è nei fatti che sono seguiti alla compera di quel capretto. Missy Settle Holloway partì il giorno dopo da Girgenti, dalla città doveva passare in Grecia, dalla Grecia in Egitto, dall'Egitto alle Indie. È un miracolo che arrivata sana e salva a Londra, sulla fine di novembre, dopo circa otto mesi e dopo tante avventure, che certamente le saranno occorse in un così lungo viaggio, si sia ancora ricordata del capretto nero, comperato un giorno lontano tra le rovine dei templi a Cragantini in Sicilia. Appena arrivata, secondo il convenuto, scrisse per riaverlo al signor Charles Strokely. L'hotel dei templi si chiude ogni anno alla metà di giugno per riaprirsi ai primi di novembre. Il direttore, a cui Missy Settle Holloway aveva affidato il capretto alla metà di giugno, partendo, lo aveva a sua volta affidato al custode dell'albergo, ma senza alcuna raccomandazione, mostrandosi anzi seccato più di un po' del fastidio che gli aveva dato e seguitava a dargli quella bestiola. Il custode aspettò di giorno in giorno che il viceconsole, signor Strokely, per come il direttore gli aveva detto, venisse a prendersi il capretto per spedirlo in Inghilterra. Poi, non vedendo comparire nessuno, pensò bene, per liberarsene, di darlo in consegna a quello stesso capraio che lo aveva venduto alla Miss, promettendoglielo in dono se questa, come pareva, non si fosse più curata di riaverlo o compenso per la custodia e la pastura nel caso che il viceconsole fosse venuto a chiederlo. Quando, dopo circa otto mesi, arrivò da Londra la lettera di Missy Settle Holloway, tanto il direttore dell'hotel dei templi, quanto il custode, quanto il capraio, si trovarono in un mare di confusione. Il primo per aver affidato il capretto al custode, il custode per averlo affidato al capraio e questi per averlo a sua volta dato in consegna a un altro capraio con le stesse promesse fatte a lui dal custode. Di questo secondo capraio non si avevano più notizie. Le ricerche durarono più di un mese. Alla fine, un bel giorno, il signor Charles Strockley, si vide presentare, nella sede del vice consolato in Girgenti, un orribile bestione cornuto, fetido, dal vello stinto, rossigno, strappato e tutto incrostato di sterco e di mota, il quale, con rocchi profondi e tremuli belati, a testa bassa, minocciosamente, pareva domandasse che cosa si volesse da lui, ridotto per necessità di cose in quello stato, in un luogo così strano dalle sue consuetudini. Ebbene, il signor Charles Strockley, secondo il solito suo, non si sgomentò minimamente a una tale apparizione, non tentennò un momento, fece il conto del tempo trascorso dai primi d'aprile agli ultimi di dicembre, e concluse che ragionevolmente il grazioso capretto, nero d'allora, poteva essere benissimo quest'immondo bestione da adesso. E senza neppure un'ombra di esitazione rispose alla Miss, che subito gliel'avrebbe mandato da Porto Empedocle col primo vapore mercantile inglese di ritorno in Inghilterra. Appese al collo di quell'orribile bestia un cartellino, con l'indirizzo di Miss Settle Holloway, e ordinò che fosse trasportata alla marina. Qui lui stesso, mettendo a grave repentaglio la sua dignità, si tirò dietro con una funela bestia restia per la panchina del molo, seguito da una frotta di molellacci. La imbarcò sul vapore in partenza e se ne ritornò a Girgenti, sicurissimo di aver adempiuto scrupolosamente all'impegno che si era assunto, non tanto per la deplorevole leggerezza di Miss Settle Holloway, quanto per il rispetto è dovuto al padre di lei. Ieri il signor Charles Trockley è venuto a trovarmi in casa in tali condizioni d'animo e di corpo che subito, costernatissimo, io mi sono lanciato a sorreggerlo, a farlo sedere e a fargli recare un bicchiere d'acqua. Per amor di Dio, signor Trockley, che vi è accaduto? Non potendo ancora parlare, il signor Trockley ha tratto di tasca una lettera e me la porta. Era di Sir Holloway, pari d'Inghilterra, e conteneva una filza di gagliarde insolenza al signor Trockley per l'affronto che questi aveva osato fare alla figliuola, Miss Settle, mandandole quella bestia immonda e spaventosa. Questo è il ringraziamento di tutti i disturbi che il povero signor Trockley si è preso. Ma che si aspettava dunque quella stupidissima Mrs. Hattel Holloway? Si aspettava che a circa undici mesi dalla compera ne arrivasse a Londra quello stesso capretto nero che springava piccolo e lucido, tutto fremente di timidezza, tra le colline dell'antico tempio greco in Sicilia? Possibile? Il signor Charles Trockley non se ne può dare pace nel vedermelo davanti in quello stato. Io ho preso a confortarlo nel mio meglio, riconoscendo con lui che veramente quella Miss Settle Holloway deve essere una creatura non solo capricciosissima, ma, oltre ogni dire, irragionevole. Stupida, stupida, stupida! Diciamo meglio, irragionevole, caro signor Trockley, amico mio. Ma vedete, mi sono permesso d'aggiungere timidamente, ella, andata via lo scorso aprile con negli occhi e nell'anima l'immagine graziosa di quel capretto nero, non poteva, siamo giusti, far buon viso, così irragionevole com'è evidentemente, alla ragione che voi, signor Trockley, le avete posta davanti, all'improvviso, con quel caprone mostruoso che le avete mandato. Ma dunque, mi ha domandato, rizzandosi e guardandomi con occhio nemico il signor Trockley, che avrei dovuto fare, dunque, secondo voi? Non vorrei, signor Trockley, mi sono affrettato a rispondergli imbarazzato, non vorrei sembrarvi anch'io irragionevole come la piccola Miss del vostro paese lontano, ma al posto vostro, signor Trockley, sapete che avrei fatto io? O avrei risposto a Mrs. Hattel Holloway che il grazioso capretto nero era morto per il desiderio dei suoi baci e delle sue carezze? O avrei comperato un altro capretto nero, piccolo, piccolo e lucido, simile in tutto a quello da lei comperato lo scorso aprile? E glielo avrei mandato, sicurissimo che Mrs. Hattel Holloway non avrebbe affatto pensato che il suo capretto non poteva per undici mesi essersi conservato così, tale quale. Seguito con ciò, come vedete, a riconoscere che Mrs. Hattel Holloway è la creatura più irragionevole di questo mondo e che la ragione sta intera e tutta dalla parte vostra, come sempre, caro signor Trockley, amico mio.